... Sabato 21 giugno 2014, siamo a Disneyland Paris di fronte a Parco Walt Disney Studios, giornata dedicata alla presentazione alla stampa della nuova attrazione Ratatouille che fra poco andremo a scoprire assieme. Grazie e ragazzi, e voi ragazzi, abbiamo il piacere di accettare il Presidente di Walt Disney Parks e Resorti, Tom Staggs, e il Presidente di Disneyland Paris, Philippe Gass. Ciao e benvenuti. Onde è Linguini? Linguini? Oh, sono qui! Sono qui! Ciao a tutti! I'm so sorry I'm late. I was busy getting more vegetables for the ratatouille. Oh, è vero! wow ladies and gentlemen please welcome the star of ratatouille chef remy and of course le chef parmi les chefs the chairman and CEO of the Walt Disney company Bob Iger Buongiorno, mesdames e messieurs. It is wonderful to be here on this beautiful day in Paris, in this beautiful theme park, Disneyland Paris. And I am extremely excited to show you what we have just built. It is now my pleasure to officially dedicate the Ratatouille Adventure. Congratulations. Ratatouille at Walt Disney Studios means not only the attraction that is on our shoulders, an attraction 3D, a dark ride 3D, ma anche il ristorante Chefs Remy, un ristorante tematico il più grande con servizio al tavolo dell'intero resort e Chefs Mariana che sarà un negozio che aprirà alla fine del 2014. . . . . . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.